io non lo reggo io non lo reggo io un anno così non lo reggo più non lo reggo più io non posso incazzarmi così avvelenarmi tutti i giorni così se volete il mio bene se non volete che mi viene un infarto se volete curarmi volete pagarmi le medicine dallo psicologo perché sto diventando matto iscrivetevi al canale lasciate like sostenete un esaurito mentale che sta andando fuori di testa perché io un anno così non lo reggo più lo sai cosa ti farei quando fai certe dichiarazioni lo sai cosa ti farei lo vedi questo lo vedi questo ma non dalla parte di qua dalla parte del manico e poi lo accendo diavoli rossoneri diavoli rossoneri oggi l'ho preparata oggi l'ho preparata perché questa è da infilare superi a qualche d'uno a qualche faccia di dopo ieri era meglio che stava zitto ma io dico dopo il putiferio che si è scatenato per la storia di donna ruma dei fischi ci hanno dato la colpa a noi che la partita l'abbiamo persa perché hanno fischiato ma tu puoi fare delle dichiarazioni del genere voi avete già capito di chi sto parlando dalla miniatura perché anche se gli ho messo la faccia da porco si vede che lui si vede che lui ma io quando sento questa persona parlare divento cattivo come il pinguino di batman d'altronde io sono fatto così io sono fatto così devo dire sempre quello che penso non mi tiro ma indietro vado contro a volte vado contro tutto e contro tutti a costo di prendermi insulti perché ho preso anche degli insulti ma io non sono così ieri a tanti youtuber a tanti youtuber ha fatto comodo per accaparare gente per accaparare like ha fatto comodo avere la lingua marrone e cambiare faccia ieri erano tutti perbenisti erano tutti con donna ruma non doveva essere fischiato poverino io non sono così le stesse parole che gli ho detto 4-5 mesi fa gliele ho dette anche ieri perché io non sono una doppia faccia ormai mi conoscete e oggi oggi una persona quella faccia di ragliola ha parlato ed era meglio che stava zitto era meglio perché lui parla una volta all'anno parla una volta all'anno e dice solo cagate dice solo cagate si è permesso di fare una dichiarazione è andato ancora contro il mila è andato ancora contro lui ormai ce l'ha col mila ogni volta si vede che gli brucia il peperone per qualche motivo l'avranno picchiato da piccolo secondo me a questa persona gli manca qualche venerdì secondo me gli manca qualche venerdì lui fa da lunedì al giovedì poi salta il venerdì e fa sabato e domenica il venerdì lui va in pappola gli va in pappola il cervello cosa ha detto raiola avete visto le dichiarazioni adesso ve le faccio vedere in video ha detto che lui è disgustato è disgustato lui è disgustato dai fischi a donna roma e che il milan dovrebbe prendere provvedimenti ufficialmente dobbiamo prendere un prevedimento cos'è che dobbiamo fare prendere cosa ma qualche tu non ho mai preso provvedimenti su di te che sei un ladro dovresti essere in galera tu devi ringraziare la madonna che sei ancora nel mondo del calcio hai le società fantasma dopo il dopo il servizio il report che hanno fatto ti hanno sgamato che non ti trovano manco più al tuo paese società fantasma soldi destra e sinistra nascosti e tu parli di disgustato ma che coraggio hai dopo tutto quello che combini dopo l'ultima pagliacciata che hai fatto sul su Holland su Holland che dici che se qualcuno vuole il giocatore ci vogliono 70 milioni per il giocatore ci vogliono 30 milioni o 50 milioni adesso non mi ricordo di commissioni per lui per il signorino e in più lui ha cambiato il mondo del calcio perché oltre le commissioni vuole 2 milioni e mezzo di stipendio all'anno lui così a cazzo di cane lui vuole 2 milioni e mezzo e tu parli di disgustato tu che sei uno che va a raccattare soldi a destra e sinistra che stai rovinando dei giocatori tra quale donna ruma perché tu l'hai spinto a fare tutto quello che ha fatto tu l'hai spinto come hai spinto tanti altri giocatori tu stai rovinando il mondo del calcio e parli di disgustato prendere provvedimenti tu sei la rovina del calcio e te l'ho detto deve ringraziare i santi che si ancora nemmeno so come fai a essere io te lo giuro te lo giuro mi sono venuti brividi stamattina quando ho letto la notizia poi non so se vera che forse capita romagnoli rinnova ma non è per romagnoli non è per romagnoli può essere anche utile il milan è per te che mi sono venuti brividi è per te perché ero convinto che se va via romagnoli ci siamo levati dalle palle raiola e invece se rinnova romagnoli ci sia ancora te porca quella madonna che nervoso madonna che nervoso no io non lo reggo un anno così io non lo reggo ogni volta che parla questo a me mi acchiappa un nervoso ma poi parla sempre nei momenti sbagliati tu sai che ieri si è scatenato l'inferno dei fissi a donna ruma chi voleva chi diceva una cosa chi diceva un'altra ci sono dati contro soprattutto ci sono dati contro i tifosi del milan perché hanno detto che è colpa nostra che l'italia ha perso la partita senza guardare gli errori tattici bonucci facciamo stare loro hanno guardato solo i tifosi del milan che poi non erano tutti i tifosi del milan ma hanno guardato i tifosi del milan e tu ti permetti di fare la dichiarazione del genere ma te veramente va ti manca qualche venerdì rispondimi ti manca qualche venerdì comunque ragazzi oggi video veloce perché non c'è molto da dire c'è ancora la nazionale ma il mio pensiero non cambierà mai non cambierà mai a costo di prendermi insulti dalla mattina alla sera se volete insultarmi io vi aspetto qui sotto donna ruma raiola merda siete e merda resterete